La chiamata, con una lettera che fissa l'appuntamento presso il consultorio più vicino, è per tutte le donne tra i 25 e i 64 anni di età residenti nei territori di ATS Brianza e ATS Dalla Montagna, 327.000 interessate nelle province di Lecco e Monza e 40.000 in Valtellina. Partito lo screening di prevenzione al cancro al collo dell'utero grazie al test HPV DNA. Obiettivo debellare questo tipo di tumore che ogni anno uccide ancora 3.500 donne in Italia. Al pap test e alla vaccinazione contro il papillomavirus si unisce ora la campagna di screening per rilevare la presenza dell'HPV, virus che può provocare il carcinoma della cervice, intervenire prima che si sviluppi la malattia tumorale, l'arma più importante. È importantissima l'adesione a questo screening voluto da Regione Lombardia, orchestrato da ATS Brianza e da ATS Montagna, di cui Lecco è l'hub per tutto il territorio che va dalla Valtellina fino a Monza. È importante che le donne vengano nei consultori che fanno la rete su tutto il territorio e si sottopongano all'HPV screening. Avete iniziato a inviare le lettere del mese di dicembre e le prime visite a inizio marzo e si prosegue. Qual è il calendario e l'adesione per il momento? Allora, l'adesione per il momento è di circa il 50%. Come adesione grezza, tenga conto che i dati sono provvisori, per cui il calendario è di proseguire in linea con quelle che sono le indicazioni regionali e quello che ci aspettiamo è che l'adesione aumenti e soprattutto ci aspettiamo che le donne vengano sensibilizzate anche da queste importanti iniziative affinché un numero maggiore di donne aderisca all'iniziativa di prevenzione condotta da ATS Brianza. L'infezione da papillomavirus è un'infezione molto frequente ma nella stragrande maggioranza dei casi autolimitante che si risolve spontaneamente. In una piccola quota di casi l'infezione persiste, allora dobbiamo marcare strette queste donne perché un'ulteriore piccola quota di esse potrebbe manifestare delle anomalie cellulari che noi dobbiamo controllare prima che sfocino in lesioni più serie.